Pescara-Milan non ha incantato il Milan, un po' come voi ad Avellino, ma intanto ha ottenuto la terza vittoria fuori casa. Va bene, questa è una cosa importante, io ho visto prima volta mia squadra, Sampdoria ha giocato contro Avellino, secondo tempo grigio, che non vuol dire male o vuol dire meno bene, abbiamo vinto. Milan non è pigliato in Pescara, però ha vinto. Ora se una squadra ha qualità dentro e in campo, deve vincere quando si gioca male. E stiamo vedendo come ha vinto questa magnifica schiacciata di Virdis sul cross di Maldini, questo è stato il gol che ha sbloccato il risultato e praticamente ha deciso l'incontro, in precedenza c'era stato quel tentativo alto di Sliskovic. E qui invece stiamo vedendo l'azione combinata tra Massaro e Gullit, in cui Gullit si infortuna. Ecco l'attimo in cui Gullit rallenta la corsa e c'è stato questo stiramento alla coscia, io credo che con Gullit, Bosco mi correga se sbaglio, il Milan perda indubbiamente un giocatore fondamentale. E' un giocatore fondamentale per Milano, però è un giocatore che ha fatto sempre, ha dato paura a tutti noi, ammissari. Vuol dire a Milano ha perso un grande giocatore, anche a Milano ha perso nostra paura contro Gullit e contro Milano. Non c'è dubbio. Nel frattempo stiamo seguendo questi tentativi del Pescara di arrivare al pareggio, d'altra parte non particolarmente pericolosi, se non questo c'è questo cross di Junior e sul rinvio a Candela c'è un'incertezza di Galli in uscita che avrebbe potuto costare al Milan il pareggio. Nel frattempo era entrato Bortolazzi, qui invece c'è questo colpo di Tacco di Virdis che libera Massaro, gol annullato per fuorigioco. Bisognerebbe vedere al momento della partenza del pallone, però probabilmente fuorigioco c'era. Qui c'è il lancio di Donadoni e stavolta Massaro la palla a gol era pulita e alza troppo il tiro. Questa era bella palla a gol. Questa bella palla a gol e questo invece è il gol di Bortolazzi, molto bello su punizione, forse con qualche responsabilità di piazzamento del portiere io credo. È molto difficile. Grazie a tutti.